Ciao e benvenuti ad un nuovo video! Oggi vediamo insieme 5 consigli per tornare in forma e come al solito lo facciamo con le nostre carte dei custodi di luce Andiamo a vedere il primo consiglio Allora, il primo consiglio per tornare in forma ce lo dà Calima, allora la Dea Cali Per tornare in forma il primo consiglio è quello di guardare in faccia le nostre paure Molto spesso in effetti sul cibo vengono scaricate tutta una serie di paure Quindi la prima cosa da fare per tornare in forma è vedere il momento in cui si apre quel buco nero che poi fa avvenire quella fame, diciamo così, che non si riesce a resistere Sicuramente magari facendo un'analisi si può andare a vedere che ci sta appunto una paura oppure che magari si deve rafforzare qualcosa dello spirito dentro di sé Quindi importantissimo questo consiglio di quando si sta bene, in un momento in cui non si ha fame andare a fare un'analisi delle proprie paure magari vedere un po' quelle, guardarle un po' in faccia perché a volte il non sentirsi accettata, il non sentirsi bella, il non piacersi possono essere quelle paure alla base del fatto che poi si vada fuori forma Secondo consiglio Ce lo dà Ganesh Abbondanza infinita Allora, molto spesso per tornare in forma bisogna iniziare a cambiare il pensiero Infatti molte volte si ha paura di fare una dieta, si ha paura della privazione eccetera Invece Ganesh invita all'alimentazione ricca ma sana Quindi cercate per esempio di andare da un dietologo che vi faccia un'alimentazione molto, come dire, bella Molto buona, molto per esempio ricca di frutta o di colori, insomma di cose che vi piacciono Cioè fate un qualcosa, imparate ad amare il mangiare sano anziché il vivervi la privazione Stare in forma è un qualcosa che lega all'abbondanza Quindi imparare a mangiare fa sì che anche quando viaggiate, anche quando state all'aperitivo Anche quando state con gli amici, sapete come gestirvi E come dire, non avete pensieri di carenza Ma sarà importante sempre avere pensieri di abbondanza Quindi diciamo abbiamo le paure, l'analisi della paura come prima cosa E la seconda cosa, cercare un'alimentazione ricca, molto variata, molto bella anche da vedere Consiglio numero 3 Allora abbiamo Grintara, protezione suprema Chiedete aiuto, cioè quando volete rimettervi in forma Chiedete aiuto alla vostra guide, ai vostri angeli, alle vostre divinità tutelari, eccetera Di darvi la forza, quindi la forza di fare più sport, la forza di mangiare sano, la forza di amarvi Perché poi tutto è là, cioè quando ci si ama, quando si sta bene con se stessi, si sta anche in forma Perché amiamo prenderci cura di noi stessi, del nostro corpo che è il nostro tempio Quindi rifatevi sempre alla protezione suprema E anche quando magari siete pigri, non vi va di fare sport, che è fondamentale per tornare in forma Chiedete alle vostre guide Per piacere dammi la forza di avere voglia di fare sport e di allenarmi Oppure quando magari vi prendono momenti di fame o vi mettete a tavola e così Dite dammi la forza di mangiare il giusto Dammi la forza di nutrirmi in equilibrio per quello che mi fa star bene Consiglio numero 4 Alcangelo Michele Per tornare in forma, abbi fede nel cielo Quindi in questo, e tu sei al sicuro Questo, diciamo, rafforza un po' quello che ci diceva prima Tara Verde Ossia il chiedere proprio la forza anche ai vostri protettori Quindi sapere che siete al sicuro Molte volte la fame o la pigrizia Vengono da dei comportamenti che derivano come dal proteggerci in un certo senso Non ci mettiamo in gioco, non facciamo questo Mi sento stanca, non ho tempo O non ho soldi a volte Invece voi siete al sicuro e protetti Chiedete all'arcangelo Michele Sa che molti di voi ci lavorano, eccetera Chiedete anche a Green Tara La Tara Verde è una divinità molto bella Una maestra che aiuta molto nel delegare Quindi chiedete anche a lei aiuto Per mangiare verde, mangiare green, mangiare sano Per avere la forza di fare movimento Di fare sport e i soldi Per comprare il cibo di qualità E per andare in palestra o dove volete andare Quindi non vi sentiate sole in questa vostra sfida per tornare in forma E infine Maestro Buddha Allora Per tornare in forma L'ultimo consiglio è quello di sentire la voce interiore È come se per tornare in forma serva una motivazione Una motivazione profonda Non lo dovete fare per vostro marito Per vostri figli Per l'amica Anche per loro Ma soprattutto per voi stessi Soprattutto perché il tuo corpo è il tuo tempio Il tuo corpo è la macchina È lo strumento con cui tu puoi vivere una vita meravigliosa qui Più tu stai bene con quello strumento Più la tua vita sarà piena e appagante Questo è fondamentale È un grandissimo insegnamento che ci dà Maestro Buddha Quindi cerca dentro di te Quando ti raccogli Perché è necessario qui fare una meditazione Un momento di raccoglimento E andare a vedere quali sono le tue paure più profonde Guardandole in faccia Perché comunque Kali è una dea forte Che ci fa vedere le nostre paure Però è anche la dea della fine e degli inizi Quindi darci un taglio con quelle paure E sostituirle con la voglia di amarsi profondamente Levare appunto quelle paure Che ci fanno credere imperfette Non belle eccetera E dire no io sono bella e perfetta così come sono E adesso ristrutturo il mio tempio Il mio corpo è il mio tempio Avere un corpo agile Fa sì che la vostra vita sia più dinamica Più divertente Possiate fare più cose Avete meno dolori Vi sentite più belle Ok questa è la cosa fondamentale Quindi importantissimo Lavorare con la fine e con l'inizio Con l'inizio e con la fine Quindi via le paure E dentro le motivazioni giuste Una motivazione personale La motivazione è che il vostro corpo è il vostro tempio Se voi siete le custode di un luogo di culto Non lo tenete male Lo tenete benissimo E quindi lo nutrite in un certo modo Con un'abbondanza Con una ricchezza Quindi prendersi cura di sé Mettersi le creme profumate Le creme rassodanti Insomma tutto quello che vi piace Vi fa star bene E anche farsi belle Quindi mettersi non so gli orecchini Mettersi lo smalto Insomma tutto quello che vi fa star bene E di volta in volta Anche prendere dei vestiti Che vi valorizzino Se anche vi piace quella maglietta Ma vi fa affagotto Prendetene una che invece Vi fa sentire bellissimo Vi dovete sentire sempre delle idee E poi sport E mangiare bene E per i soldi Di alimentazione biologica Se potete non crudele Quindi no animali No pesci Pesci sono animali Il più possibile Perché se no sentite anche la sofferenza Di quelle creature Però queste sono scelte vostre E poi la palestra Lo sport Io dico palestra Che sia yoga Che sia pilates Che sia quello che desiderate Però fate movimento Che anche sia la corsa Eccetera O andare a camminare Per i soldi Ci pensa l'arcangelo Michele Quindi chiedete a lui Il supporto Magari troverete una cosa gratuita O magari lo fate su Youtube Ci sono tantissime insegnanti Bravissime Che fanno Dei video Gratuiti Eccetera Che li potete seguire Appunto come seguite il mio canale Anche canali Di per esempio Di yoga Ce n'è uno Che è la scimmia yoga Che è bravissima Quindi potete seguire Sara Che è un'insegnante eccezionale E poi a mangiare bene Anche qui su internet Vi può aiutare tantissimo Ci sono tantissimi siti Canali Youtube Eccetera Che fanno ricette Di tutte le Quello che seguite Vegane Vegetariane O anche Onnivore Buone Salutari Poco grasse Ma ugualmente Deliziose Quindi insomma Mettetevi un po' di impegno Obiettivo Tornare in forma Già alcuni di voi Dopo le letture dei registri Mi hanno detto Che si sentono meglio Che stanno recuperando Una forma fisica ideale Questo è importante Perché come ci insegnano Gli antichi Men sana Incorpora sano Quindi anche la nostra energia Poi fluisce meglio Ed è questo poi il motivo Per cui Diciamo con i custodi di luce Abbiamo fatto questo Questo video Per aiutarvi a Come dire Ritornare nella vostra forma perfetta Siete perfette Bellissime Così come siete La cosa importante È che vi ci sentiate voi Quindi sentitevi Ogni giorno più belle Ogni giorno più in forma Ogni giorno più Dei Spero Che questo video Ti sia piaciuto In tal caso Regalaci un like E se non ci iscritti Al canale youtube Delle leggi della magia Farlo subito Ciao E al prossimo video Ciao